Sì, buonasera, sgombriamo subito il campo da ogni possibile equivoco. Il risultato, sebbene giunto al 96esimo, è un risultato giusto, a meno per quello che si è visto in campo durante tutto l'arco della gara. Resta il rammarico dei Leccesi perché l'arbitro ha prolungato di sei minuti, inspiegabilmente, il pur ottimo arbitro Nuscini, la partita, ma anche il rammarico dei Casalanesi per le tante parate di Lorieri che ha salvato la sua squadra in molte occasioni. E vediamo subito le immagini che possiamo far mandare in onda dalla regia con gli unici che hanno vinto, i tifosi, sia quelli casalanesi rosso-blu sia quelli Leccesi giallorossi, in una partita che è stata veramente molto calda di incoraggiamento, di coreografie e che è stata tranquilla anche per il perfetto ordine della polizia e dei carabinieri. Qui abbiamo visto subito un tiro del Casarano con Fendrico, abbiamo visto un'altra possibilità di Francioso e questo è un altro tiro di Trinchera, uno dei migliori del Casarano. Un'azione di contropiede del Lecce che cerca di risalire le posizioni, il lancio di Palmieri per il Francioso, ma il numero 4 del Casarano poi mette in angolo. Qui è un'azione del Casarano in sanguine che non arriva al momento giusto sul passaggio di Chianese. Ancora una possibilità per il Casarano che è stato a lungo nella metà campo del Lecce, poi un tiro di Cucciari che non va a buon fine. Siamo alla fine del primo tempo, una punizione con lo schema e Cancelli che potrebbe mettere alle spalle di Lorieri, ma sbaglia da buona posizione. Nella ripresa il Lecce si presenta con Francioso con questo tiro che il portiere Galati blocca tranquillamente. Poi ancora il Lecce che cerca di andare avanti con Palmieri, il cui tra persone viene bloccato da Galati ancora una volta. In questo momento ecco per esempio una delle svolte della partita, 40, uno dei migliori uomini del Casarano esce per un infortunio e il Lecce cerca di risalire ed ecco il gol del Lecce, è Francioso che fa tutto da solo e dopo la respinta del portiere Galati di testa mette in gol per l'esultanza dei moltissimi diforsi leccesi presenti sugli spalti. Il Casarano tenta di pareggiare, Francioso questa volta per poco non procura un guaio a Lorieri in difesa e poi va in attacco a cercare di incornare, il Lecce cerca di perdere un po' di tempo, esce Palmieri, entra Mazzeo e il Lecce ha un'altra buona occasione sempre con Francioso il cui tiro viene sventato da Galati ma a questo punto siamo ormai oltre il novantesimo, incomincia il Casarano ad attaccare con molto cuore diciamo così e prima Lorieri che para, ancora una volta una splendida parada di Lorieri sul tiro sempre di Cancelli, uno dei migliori e qui abbiamo ancora una mischia in area con un calcio d'angolo, alla fine saranno 15 calci d'angolo battuti dal Casarano contro 3 dei giallorossi leccesi, questa è l'azione che poi porterà al gol del pareggio Trinchera per Piccino lungo il cross sul secondo palo, sbuca Carannante e poi Zanoncelli che per bloccare il pallone mette il pallone proprio in fondo alla porta. Vedete il presidente Filogana che esulta insieme a tutti i giocatori tutti quanti in campo, i tifosi giustamente sultano perché sembrava una partita stregata e possiamo dire che è stato appunto un risultato giusto abbiamo detto per tutto quello che si è visto nel corso dei 96 minuti. 7400 spettatori paganti, 165 milioni di incasso, un incasso record e nel dopo partita gli allenatori non sono molto d'accordo fra di loro. Via l'intervista. Sicuramente una gran bella partita, un risultato giusto. Sì, credo che la gente si sia sicuramente divertita. Casarano ha giocato una grande partita e forse il risultato è giusto per come è maturato ma credo che Casarano avrebbe meritato anche di vincere. Abbiamo creato almeno 7-8 occasioni da gol dall'inizio, cioè dal primo minuto fino alla fine quindi credo che se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi. Secondo lei questa partita dove si è giocata meglio? Ma direi che è stata giocata in tutto campo. Noi abbiamo cominciato a pressare i difensori, loro hanno cominciato a giocare, a attaccare i nostri, quindi è stata veramente una bella partita. Quando ha segnato Francioso mancava non tanto alla fine della partita. Lei ha avuto un modo di stizza però non ha assolutamente pensato di perderla. No, ma guardi nel secondo tempo fino al gol di Francioso avevamo giocato solo noi. Nel primo tempo avevamo creato 3-4 occasioni belle, non pensavamo mai che potessi perdere. Quando è successo il gol un po' male sono stato. Ventura al novantesimo il Lecce vinceva, al novantasesimo ha pareggiato, un risultato giusto. Ma al novantesimo no? Secondo me no. Al novantaseiesimo sì, perché negli ultimi tre minuti hanno avuto due o tre situazioni pericolosissime. E direi che negli ultimi tre minuti dal novantatresimo al novantaseiesimo si sono guadagnati il pareggio. Ma direi che se fosse finita normalmente con il Lecce in vantaggio credo che non avremmo rubato niente, senza nulla togliere al Casarano che ha fatto una buona partita, era una partita difficile, su un campo difficile contro una squadra estremamente determinata. E non aver subito praticamente un tiro in porto fino al novantesimo. Cioè le rimesse che a Città non fanno parte del gioco, però direi che avevamo creato tre o quattro situazioni, era un alti vantaggio credo meritatamente. Quindi secondo me è al di là del rammarico di aver perso due punti importanti al novantaseiesimo. C'è comunque la soddisfazione di aver fatto una partita decisamente diversa rispetto a Castelli Sangro e abbiamo fatto un passo notevolissimo in avanti rispetto a quelle che sono le esigenze della nostra squadra.